In occasione della prima seduta del Consiglio Comunale di Serravalle Pistoiese, il Sindaco Piero Lunardi ha presentato la sua giunta. Siamo arrivati al dunque a concludere il cammino che abbiamo iniziato il 12 giugno avendo vinto le elezioni, questa è la mia squadra e secondo me è un'ottima squadra anche perché la gente ci ha dato soddisfazione in quanto abbiamo vinto star vinto perché l'altra volta abbiamo vinto con 5 punti, con 5 voti di distacco, questa volta con oltre quasi 1000. Quindi è segno che io e la mia squadra, più che loro, più che di me quasi, si siamo dati da fare sul territorio e abbiamo raggiunto questo ottimo risultato. Noi daremo una spinta a questo paese, una rinascita perché è stato per tanto tempo messo sotto piedi e noi già gli abbiamo dato un po' di via e con questi altri 5 anni penso che raggiunga lo splendore. Confermati 4 assessori su 5 rispetto al precedente mandato. Federico Gorbi, riconfermato Vice Sindaco, con delega a bilancio, tributi, ambiente, partecipazione, promozione del territorio e fiere. Ilaria Gargini, assessore a sociale, educazione e istruzione, pari opportunità, cultura. Benedetta Vettori, con deleghe confermate a sport, attività produttive e commerciali. Bruschi Maurizio, assessore al personale, trasporto pubblico, traffico, viabilità, turismo, sentieristica e cammini. Nuovo ingresso in giunta al posto di Roberto Bardelli, eletto presidente del Consiglio Comunale, e Alessio Gargini, nominato assessore ai lavori pubblici, arredeo, decoro urbano, agricoltura e vivaismo, società partecipate. Il Sindaco mantiene per sé le deleghe a urbanistica e assetto del territorio, polizia municipale, protezione civile e cimiteri.